E ora vi riproponiamo le immagini di Striscia di lunedì scorso e che hanno suscettato polemiche su polemiche C'è un disegnino, c'è un disegnino È uno spillo, dai ridigolo Ciao ragazzi, allora qualcuno di voi mi ha inviato questo video in cui possono vedere Michele Nuzica e Reggio e Scotti che lunedì rispondono durante la puntata di Striscia a Dai e Prada e tutto il polverone che è successo Devo dire che non mi è assolutamente piaciuto il modo in cui hanno risposto Mi ha veramente deluso questa risposta perché si vede che non hanno in nessun modo capito dove stava il problema e non hanno in nessun modo indirizzato quello che è stato questo polverone e perché si è alzato Anche chiamarlo polverone lo trovo piuttosto riduttivo considerando che si ha a che fare con una realtà ben più complessa e io speravo che ci fosse più intelligenza da parte degli autori di questo programma e che capissero dove stesse il problema anziché cercare di depistare l'ascoltatore probabilmente c'è l'ascoltatore che ha visto questo programma o non ha colto o non ha gli strumenti per poter cogliere determinate dinamiche che si sono realizzate in questo programma durante questo intervento che mi hanno lasciato assolutamente senza parole hanno prima mostrato nuovamente l'immagine per il quale sono stati accusati di razzismo in seguito hanno mostrato delle immagini di un programma che era andato in onda la settimana prima di quando sono stati accusati sulla Rai e queste erano le immagini adesso vi mostriamo alcune scene di un film andato in onda una settimana prima su Rai 1 oh Rai 1? si ho detto bene Rai 1 ah Rai 1 ho capito guarda vediamo sentite cosa dicono ragazzi purtroppo questa parte del video non posso mostrarvela perché ci sono stati dei reclami di copyright per quanto riguarda questo film quindi vedrò di descrivervi la scena comunque sostanzialmente c'era un meeting di lavoro tra questo signor Wang che era cinese la sua assistente e due italiani i due italiani continuavano a prendere in giro il signor Wang dicendo che firma facendo dei disegnini che cos'è ma cosa ti aspetti da un paese che cosa dicono esattamente che utilizza le bacchette per mangiare gli spaghetti o tra l'altro poi gli fanno i gesti quello degli occhi quello che hanno fatto anche Michel Unzich e Reggerri e una serie di altri luoghi comuni tra cui anche il fatto che ci hanno vabbè l'arnese piccolo stereotipi non veri peraltro e anche buttati lì un po' a caso però ovviamente date di spettatore vedevi in luce veramente negativa i due italiani e vedevi i due cinesi come poverini cosa stanno subendo quindi questo più o meno è il contesto torniamo adesso al video come potete vedere secondo me c'è una grandissima differenza tra quello che mi è stato mandato in onda su Striscia e quello che è stato mandato in onda sulla Rai io non so il contesto di questo film però io da utente se vedo questo film mi sembra che comunque gli antagonisti siano gli italiani quindi il telespettatore che vede questo programma non si mette a ridere di qualcuno che sta facendo satira deridendo un altro popolo ma in questo caso praticamente gli antagonisti sembrano gli italiani stessi e io sfido che ci siano bambini che dicono ah che ridere questi due uomini voglio anche io diventare razzista un giorno cioè secondo me sono messi in estrema cattiva luce cosa che non è stata fatta durante la virgolette satira che è stata fatta su Striscia questa secondo me è una grandissima differenza però vedete c'è stato proprio questo tentativo di proprio depistare che non mi è piaciuto come mai Diet Prada che ci ha accusato di razzismo non si è indignato con Rai Uno non saranno attacchi pretestuosi e strumentali di chi si occupa di moda per attaccare attraverso la conduttrice un noto marchio del Made in Italy è davvero il colmo che ci sia il Gabibbo che parla di strumentalizzazione quando qua c'è un puro esempio di strumentalizzazione dei media e di cercare di controllare e creare una determinata narrativa penso che sia palese un pochino a tutti cioè io faccio una cazzata non dico ho fatto una cazzata scusate cerchiamo di portare un po' di sensibilità su determinati temi no facciamo vedere che ci sono altri media in Italia che si comportano in questo modo tra l'altro in contesti completamente diversi io ripeto non ho visto quel film ma da queste poche immagini mi è sembrato proprio che si era cercato di denunciare una determinata cosa cioè non è che se in un film io faccio vedere una persona razzista in termini negativi tra l'altro vuol dire che non si può più fare questo perché c'è un cortometraggio adesso molto bello che parla di razzismo su Netflix che tra l'altro è candidato agli Oscar non è che se si fa vedere quel personaggio razzista in quel contesto ha lo stesso significato che farlo vedere in una trasmissione adesso non credo sia una trasmissione comica striscia la notizia non vorrei dire comunque cerca di dare delle notizie di fare notizia no? in modo satiro ok con la satire eccetera però c'è una grandissima differenza e tra l'altro anche questo mettere la pulce nell'orecchio del telespettatore magari poco attento che vede la trasmissione e dice che magari ha voluto attaccare il Made in Italy lì è stato palese quello che striscia stava cercando di fare spero che ci siete arrivati tra l'altro poi nei secondi successivi è anche tirato fuori la questione di Dolce Gabbana io ne avevo anche parlato in passato su YouTube però è una questione molto complessa adesso mi sembra che ci sia una una causa legale in corso quindi magari se volete farò un video su quell'argomento però qua vedete qua fanno soltanto vedere che si sono dovuti scusare sì ma loro non è che si siano dovuti scusare per quello che ha fatto Daer Prada i designer di Dolce Gabbana si sono scusati per quello che hanno fatto non per quello che Daer Prada ha fatto notare che hanno fatto e tra l'altro non è che Daer Prada attacchi solo i marchi italiani ma attacca un po' di tutto se volete magari facciamo un video su Daer Prada e ne parliamo ha anche fatto degli attacchi assolutamente no sense e infatti sono stati richiamati per aver richiamato delle cose che erano assolutamente stupide vabbè il servizio poi si conclude con questa trasmissione che fa vedere degli stereotipi di italiani sul programma russo allora io non ho tempo in questo momento in questo video perché sto per andare al lavoro di parlare di più di questo discorso di Oriente e Occidente ne parlerò in futuro però vi vorrei lasciare con un messaggio che mi è arrivato proprio ieri da un professore di Cafoscari che mi ha lasciato queste mail in cui ha sollevato una questione molto importante io vi lascio solamente il suo commento per una decina di secondi leggetelo e fatene tesoro ragazzi e quando vi arrivano determinate notizie cercate di scavare e riuscire a vedere proprio quello che queste notizie nascondono io sono molto deluso da questo programma e da questa poca sensibilità dimostrata dai media ecco questo è tutto quello che posso dire state attenti ragazzi grazie a tutti grazie a tutti